Ben tornato Alex Ben tornato Alex Ho detto ad Alex che era una Jimmy Ha risposto, vuoi dire una Blazer? Penso che lui e mio zio Oscar andrebbero d'accordo Ben tornato Alex 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 OLA! Tutto pronto per la partenza? Rami, hai detto qualcosa su un grande felino? È una storia lunga. L'ho inseguito fin nella giungla, ma poi ho perso i miei appunti. Ti spiego tutto mentre andiamo. Per prima cosa, ripercorriamo i miei passi. Andiamo a sud, dall'altra parte dell'autostrada e oltre le colline. Andiamo. Pensavo che i grandi felini evitassero le autostrade. Questo no. Poi sono andato fuori strada e ho colpito un segnale di pericolo sulla strada per Mule. Do il benvenuto a Mule. Mia zia, anzia Rosa, gestisce una bancarella nel mercato dell'artigianato. È stata lei a parlarvi per la prima volta del grande felino? Ora che ho il tuo aiuto, sono sicuro che lo troveremo. Poi sono andato oltre ed entrato nella giungla. Ci stiamo avvicinando. Aspetta, Rami. Devi raccontarmi tutto. Scusa, ora ti spiego. Ho ricevuto le coordinate dell'ultimo avvistamento di questo grande felino, ma l'aereo ha avuto problemi in fase di decollo e sono riuscito a malapena a staccarmi da terra. Allora hai scaricato. Esatto. Ho perso tutto e non ho nemmeno mai visto il felino. Ma ora ci sei qui tu ad aiutarmi. Ed è sulla strada. Por favor. È il posto giusto. Ho lasciato la mia auto all'estremità della pista. Tutte le mie cose, comprese i miei appunti, dovrebbero essere nei bauli da viaggio. Pensi di poterli trovare. Il grande felino è un'auto, giusto? Immagino una Jaguar. Ovviamente! Scusa, non te l'ho detto. È un gioiello dimenticato. Ricordati solo di lasciarmi alla mia auto una volta che l'hai trovato. Grazie mille! Come on! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per lo smercio di frutta e verdura locali. Forza, dall'altra parte della pista. Ho parcheggiato il mio veicolo nell'hangar. Per lo smercio di frutta. Per lo smercio di frutta. La scatola nera! È progettata per sopravvivere a qualsiasi incidente. Forse non per essere travolta da un'auto, ma... Non mi sembra che tu stia andando a prenderlo. Ecco la mia auto. Fammi scendere qui intorno quando vuoi partire. Alex vuole il più grande programma di gare su sterrato che Horizon abbia mai visto. E noi glielo daremo. Vienimi dietro! Non possiamo perderci se seguiamo il fiume! Occhio alla pezza! Ti piacerebbe far visita ad alcuni vecchi amici lungo la strada? Assolutamente! Ti do il benvenuto a Uxmal. Un tempo era la città più potente della regione. Ma sembrano che siamo in ritardo per i miei amici di circa... ...mille anni! Prendiamo questa strada! Stiamo avvicinando! Ti avevo promesso strade sterrate, no? Quando eravamo adolescenti, io e Lea gareggiavamo con le baggi da queste parti. Dicevo sempre io. Spero il tuo spirito competitivo si sia placato. Rivalità? Ma dai, il Messico la chiamiamo... ...famiglia. Tagliamo dall'altra parte del fiume. Qui è vicino ad Agua Azul. Ci siamo quasi! Continua così. Ora siamo nel cuore della giungla. Ci siamo solo noi e la fauna selvatica di la selva. Queste strade sono insidiose e vengono raggiunte solo dalle auto migliori. O chi si lancia con il baracadute dagli aerei cargo? Eh, anche da loro. Oh no, li abbiamo spaventati! Torneranno! Sono grandi appassionati delle gare sul terrato. Quelle sono scimmie urlatrici? Nel Regno Unito non le abbiamo? Le vostre giungle devono essere molto noiose. Ed eccoci qui! Le cascate sono proprio dietro l'angolo. Cascadas de Agua Azul. Cosa ne pensi? La giungla messicana può soddisfare Alex e i migliori piloti di gare sul terrato del mondo? È perfetto. Spero solo che i piloti su terrato siano abbastanza bravi per la giungla messicana. So cosa stavi pensando nella giungla. Che questo posto sarebbe perfetto per le gare su terrato. Dimenticato. Ho pensato la stessa cosa. Dai un'occhiata a Horizon Wilds. Un piccolo festival tutto mio dove celebriamo le gare su terrato. Oh, sarà... Ti faccio iniziare in modo semplice con qualche evento. E i piloti e i fan hanno varie sfide. Quindi... Vai e sporcati le mani. Bello. Appena tossibile farei versione a 1. 3-400 metri. Gira a sinistra. Gira a sinistra. Gira a sinistra. Gira a sinistra. Eccoti a destinazione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!